Lucana Film Commission e Calabria Film Commission protagoniste in una produzione audiovisiva nel segno di Don Quixote, pellicola ispirata al celebre romanzo di Miguel de Cervantes con la regia di Fabio Segatori e Alessio Boni nel ruolo del Cavaliere Errante. Il film, prodotto da Baby Films SRL e sviluppato in collaborazione con l'associazione Gerardo Guerrieri, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Matera negli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti, nuova sede della Lucana Film Commission nella città dei Sassi. Questo film nasce proprio su due territori, nasce in Calabria e in Basilicata, quindi le due Film Commission si trovano a collaborare e a creare quella rete a cui noi abbiamo sempre voluto arrivare perché noi abbiamo delle regioni con termini le cui film commission sono molto forti e sono molto sensibili ai racconti del territorio. Quindi l'occasione è venuta con questo testo molto particolare di Gerardo Guerrieri che chiaramente guardando all'idalgo di Cervantes racconta un po' quello che è il popolo lucano, cioè il popolo anche che vive di leggende, vive di miti, di racconti e anche un po' di sogni perché i sogni come dicevo qualcuno aiutano a vivere meglio. Però la cosa concreta invece di questo film è che noi abbiamo inserito grazie a un accordo con la produzione sia maestranze sia professionalità lucane, quindi abbiamo una buona parte di troupe e una buona parte di cast che è lucano. Un po' un film di confine che lega le due regioni nell'area appunto da Matera passando per Metapodo e poi arrivando a Rocca Imperiale nella parte dell'Alto Ionio Cosentino. Sono dei paesaggi che fanno da sfondo a questo film, un film storico di cui siamo estremamente curiosi e anche entrambe le film commission abbiamo appunto puntato su quest'idea di cinema che è un po' di riscoperta ma anche di paesaggio. Io scherzando dico che questo è il mio primo film autobiografico perché bisogna essere un po' sognatori e mantenersi bambini. Il film parla proprio di questo, del bambino, del donkey shot, del sognatore, dell'idealista che c'è in ognuno di noi. Il film vuole raccontare al pubblico l'importanza di mantenere, di conservare il bambino che c'è dentro di noi perché se poi un domani dovesse morire il mondo diventerebbe più arido, rimarrebbe solo il deserto ed ecco perché giriamo nei calanchi. Dopo aver interpretato Don Quixote in quasi tutti i teatri d'Italia ho ricevuto un regalo, sottolinea Alessio Boni. Ho la possibilità di non abbandonare questo personaggio che per 215 repliche mi ha fatto sognare. Porterò dalle assi del palcoscenico al set questo folle idealista perché mi intriga la sfida professionale ma soprattutto perché, ha ripadito l'attore, oggi più che mai di donkey shotesche imprese avremmo bisogno. Primo Ciak lunedì 6 maggio nella zona dei Calanchi. Gli altri sette lucani saranno per due settimane Pesticci, Montalbano Ionico, Craco, Borgo Taccone e Genzano di Lucania. Sono paesaggi meravigliosi, è un deserto in cui Don Quixote e San Ciopanza si perdono e quindi è la location ideale. Noi facciamo un piccolo film però un film che ha una grande anima in un posto meraviglioso che va valorizzato giustamente. Quindi penso che Don Quixote sia il progetto più giusto per valorizzarlo. Dopo la Basilicata le riprese si sposteranno in Calabria e nell'Alto Ionio Cosentino. Nel film diversi professionisti lucani, gli attori Gabriella Bagnasco nel ruolo di Dulcinea, Carlo De Ruggeri, Giovanni Capalbo e Michele Ferrara, il direttore della fotografia Ugo Lopinto, l'organizzatore generale Franco Campagna e l'assistente operatore Angelo De Luca.